Il Real Montepone vince 2 a 1 la penultima partita del campionato contro il Sovrato Davoli e blinda per quanto meno il terzo posto, diciamo quanto meno perché manca ancora una giornata, le due di testa continuano a vincere, continuano a correre. È stata una partita di caccio ovviamente questa di oggi, però è una partita con il cuore, la testa purtroppo altrove. Alessandro Pisano tecnico del Montepone. Sì, è una partita credo che sia difficile anche da analizzare perché non eravamo sicuramente qui con la testa, ma come è giusto che sia. Abbiamo avuto una settimana difficile, molto complicata, per via dell'incidente che tutti conoscono. Quindi noi abbiamo sono fiero di allenare questi ragazzi perché hanno voluto a tutti i costi essere presenti oggi, hanno voluto onorare questa maglia come hanno sempre fatto e soprattutto hanno voluto portare un regalo a Gregorio che ci sta aspettando in ospedale. Quindi noi stiamo tornando per completare questa giornata. Ecco tu sei stato insieme ai tuoi giocatori, ma tu particolarmente sei stato sempre vicino a Gregorio. Sappiamo che è difficile. La speranza è sempre l'ultima a morire, come si dice, ma si gioca tante volte anche sul filo del rasoio alcune volte, la vita di tutte le situazioni. Tornando, diciamo, purtroppo alla situazione del calcio, dobbiamo dire, dicevo avete blindato questo terzo posto. La speranza sarebbe di arrivare ancora in testa, però queste due ormai continuano a vincere sempre. Sì, sì, noi sapevamo tranquillamente che ci volevano 71 punti per vincere il campionato, noi non riusciremo ad arrivarci, quindi sarà affare tra San Gregorio e Rombiolese e poi ci giocheremo questi play-off, considerato che saremo sicuramente terzi, quantomeno, come dicevi tu. Niente, in questo momento, ti ripeto, mi riesce difficile parlare di calcio, onestamente, perché comunque, come hai detto prima tu, noi oggi abbiamo fatto una partita più sui nervi che sul resto, perché comunque la cosa importante per noi è altrove e quindi noi onoreremo il campionato fino all'ultima giornata e poi proseguiremo con i play-off perché è quello che tutti noi vogliamo. Radossalmente questa lotta tra Rombiolese e San Gregorio potrebbe far slittare i play-off al 14 di maggio. Sì, è una settimana perché ci potrebbe essere lo spareggio, ma credo proprio che si concluderà così, se devo proprio essere sincero, però è ancora meglio, ci sarà un po' di tempo in più per preparare le gare che verranno. Da un Alessandro all'altro, dal Pisano al Ranieri del Soverato. Io dicevo in apertura di Telecolonica che ho visto i ragazzi che si stavano preparando qui al campo e poi li ho visti proprio giocare, che questo potrebbe essere un buon aspetto, un buon principio, un buon inizio per una ripresa, una rincorsa, ritornare nel calcio che conta, almeno quanto meno, visto che si lascia la prima categoria di tornarci presto. Sì, sicuramente, vediamo di lavorarci sopra con questi ragazzini perché sono veramente bravi, sono quasi tutti nuovi, però avete visto oggi che i ragazzi giocano in campo, diciamo che per una prima categoria che si gioca molto a calcione, loro come vedete giocano a calcio, e sono bravi, ci dispiace per questo episodio del Montepaone che sta passando, e lo stiamo passando pure noi perché con il Montepaone siamo di casa, quindi io ho allenato pure qui e mi dispiace molto, io gli faccio ogni bocca al lupo a tutta la famiglia, a tutti i ragazzi, sperando che possano superare questo momento terribile. E questo diciamo che è stato l'attaccamento e il messaggio che tutte le squadre hanno fatto pervenire al Montepaone. M. Ranieri, come dicevo io, sempre in telecronica, questi ragazzi che giustamente abbiamo notato giocano molto tranquillamente e molto serenamente al calcio. Ironia della sorte, la decisione da parte della Lega per la partita vostra, la Caffa la prenderà domani? Noi veramente gli aspettavamo prima questa decisione, domani è 24, noi matematicamente siamo retrocessi, come ho detto precedentemente dopo il Terina questa squadra non demoralizzata perché si stava riprendendo molto bene, non siamo stati aiutati, io non dico che non dovano condannare a sé che per una squalifica o meno, però sono strabiti troppo troppo severi. Radossalmente potrebbe arrivare a dover ripetere una partita, se dovesse decidere così la Lega, è una partita che non servirebbe più a niente. Esatto Fausto, se ci dicono di riprendere questa partita non lo so come la prenderà la società, a questo punto che la facessero loro da solo la partita.